Sì, spero di averte filmato perchè Dio che Sì, veramente Fabio volo, che rossa del salto! E' in gas saltà e in volo lo dismontana, come si ancora chiedeva! Ciao Fabio volo, ti muovono la stacchietta un attimo! Sede Carogna! Sede Carogna, trasmette! Un salto da 101! Stasera cosa hai detto da fare? Sì, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è! Sì, non c'è ancora qua! Sì, bravo! Sì, non c'è ancora qua! Sì, ragazzuoli che arriva a casa! Sì, la Carogna sospenda di trasmissione sotto imparante! Sì, no c'è! Sì, buono!